Allora, riprendiamo da dove eravamo giunti, dove abbiamo visto un modo, il più semplice di leggere e di elaborare un file di testo per righe, poi vedremo metodi un pochino più sofisticati, ma prima vediamo un attimo invece come si fa l'operazione inversa, cioè la scrittura di un file. Esiste, quindi immaginiamo di avere un file che questa volta è aperto in scrittura, non in lettura, e vogliamo scriverci qualcosa dentro. Quindi quando noi apriamo un file in scrittura, cosa succede? Che viene creato un file vuoto con il cursore posizionato in alto a sinistra, prima del primo carattere della prima riga, che in realtà non ci sono perché il file è ancora vuoto. E ho dei metodi come write che mi aggiungono del contenuto all'interno del file e ovviamente spostano il cursore di conseguenza. Quindi dopo che io abbia eseguito questa istruzione write di yellow world, il file conterrà questi caratteri in più e il cursore sarà posizionato dopo l'ultimo carattere, in modo che la successiva operazione di write vada ad aggiungere nuovi caratteri dopo quelli esistenti. Un po' come fa la print, stampo della roba, poi la roba successiva non posso mai tornare indietro, posso solo aggiungere e andare avanti. Solo che il metodo write anziché essere come la print che automaticamente va a capo, il metodo write non aggiunge nulla di suo. Quindi se voglio separare le righe le devo separare esplicitamente aggiungendo io il carattere di fine linea, altrimenti i dati finiranno tutti appiccicati sulla prima riga del file. l'altra differenza rispetto a print è che la funzione write funziona solo con una stringa come parametro. Quindi se ho dei numeri li devo convertire come stringa prima di stamparli con str oppure mettendoli dentro un fstring in cui li converto all'interno della stringa stessa. C'è anche un altro metodo che può essere più comodo nel caso in cui noi dobbiamo le scrivere più linee contemporaneamente, c'è un metodo che si chiama write lines che riceve come parametro direttamente una lista di stringhe. Quindi la write scrive una stringa sola e scrive quel contenuto, tipicamente ci aggiungo il barren in modo che quel contenuto costituisca una riga nuova a sé stante. Ogni write aggiungo una riga. oppure ho questo write lines che aggiunge di botto più righe purché il parametro che gli do sia una lista di stringhe. Una lista di 10 stringhe aggiungerà 10 righe ciascuna corrispondente a un elemento di quella lista. Attenzione che se fosse una lista di interi non funziona. Quindi dovremmo prima o costruire la lista di stringhe oppure stamparle una ad una linea direttamente. C'è un terzo modo che a volte può tornare comodo di aggiungere qualcosa su un file e usare la nostra cara vecchia funzione print che conosciamo già benissimo, sappiamo come fa, sappiamo come usare l'end, sappiamo come usare il separatore eccetera. Se noi aggiungiamo semplicemente un parametro opzionale file uguale con il nome dell'oggetto file corrispondente a un file aperto in scrittura in cui vogliamo scrivere, ecco se aggiungiamo questo semplice parametro la print anziché stamparci a video stamperà dentro il file. Quindi questa alla fine è equivalente abbastanza alla funzione write. La differenza è che write è il metodo quindi uso il nome del file, dell'oggetto file .write e riceve una stringa e una sola stringa e non aggiunge barra n di suo, quindi lo devo aggiungere io. Mange invece print è una funzione, quindi non si chiama col punto, si chiama direttamente e riceve invece il file destinazione come parametro opzionale aggiuntivo. Ma l'effetto poi è lo stesso, dipende se ci troviamo più comodi, abbiamo già la stringa con write la mando via, invece se voglio magari stampare, qui c'è un esempio in cui stampo una stringa, virgola un intero o un numero. Questo lo posso fare solamente con la print, che la print è capace di accettare più parametri di tipi diversi. La write invece ha bisogno di una stringa sola, quindi prima mi devo costruire la stringa e poi la stampo, ma questi se vogliamo sono dettagli. quindi un esempio potremmo prendere il nostro programma che leggeva una serie di numeri e provare a costruire un file di uscita in cui questi numeri sono stampati ben incolonnati e all'interno di questo file ci sia anche il totale e la media. Quindi noi avevamo il nostro, prendiamo il nostro file con la somma dei numeri, che leggeva numeri.txt, noi possiamo voler costruire un file di uscita, dicevamo come c'è scritto qua, con i numeri ben incolonnati e seguiti dal totale e della media. Quindi vogliamo un file di uscita di questo tipo, contenente i nostri numeri ovviamente. Allora posso separare la parte di lettura, la parte di elaborazione e la parte di stampa. Quindi prima leggo il file, poi calcolo somma e media e poi creo il file di uscita. Leggo il file di ingresso, ce l'abbiamo già quasi, era questa parte qua che creava un vettore num. La differenza, l'unica cosa, magari mettiamo un float anziché un int perché nell'esempio sullo slide ci fa vedere dei numeri reali e non dei numeri interi, perché se no non avrebbe tanto senso allinearli alla virgola. E quindi stiamo creando questa num che è una lista di float con i numeri presenti nel file. E qui è quella prima, non abbiamo ancora fatto nulla. Ho solo messo float anziché int. Poi calcolo la somma e la media. Beh, questo è facile. Somma uguale sum di numeri e media uguale somma diviso len di num. Allora, è certo per farci qualcosa su questi numeri. Poi devo costruire il file di uscita. Anche qua il file di uscita lo dovrò creare. Togliamo queste print che non c'entrano più niente. Devo innanzitutto creare questo file di uscita. Quindi chiamiamolo outfile, file di uscita. Apri un file in cui specifico il nome del file da creare adesso e quindi lo chiamerò numeri elaborati.txt. Apro questo file in modalità scrittura e cerco di ricordarmi di aggiungere sempre l'encoding. E subito dopo, per riflesso condizionato, come dicevamo, chiudiamo questo file. In mezzo ci scriviamo le soluzioni per costruire il contenuto del file stesso. Partendo da cosa? Dalla lista che avevamo. Quindi possiamo tranquillamente iterare sulla lista num, quindi for n in num. Prendo i vari numeri che a questo punto ho messo dentro la lista e per ciascuno di questi numeri creo una riga nel file che contenga quel numero formattato in un certo modo, incolonato in un certo modo. E vabbè. Quindi avrò un outfile punto write una riga, quindi dentro write ci devo mettere una stringa in questa stringa stampo il valore di n seguito da un carattere di a capo. Però lasciamolo così, la formattazione la aggiungiamo dopo. Adesso sbattiamo solamente i numeri per vedere cosa esce. Quindi qui ho costruito una stringa contenente il valore di n e questa stringa ha dentro come ultimo carattere l'a capo. Quindi in qualche modo sto costruendo questa parte qui del file. Poi devo aggiungere una riga così e vabbè la farò fuori da questo ciclo quindi questo ciclo viene iterato tante volte quanti sono i numeri quando ho finito di mettere i numeri aggiungerò il separatore outfile punto write il trattino 10 volte e poi ci devo stampare la media e la somma quindi di nuovo outfile write la somma f somma uguale somma barra n ricordiamoci sempre il barra n se no ci si stampa tutti attaccati e poi outfile punto write f media uguale media barra n se non ho sbagliato qua non c'è nessun file che si chiama numeri elaborati ma quando faccio il run di questo programma si blocca ovviamente perché cosa ho scritto ho scritto virte anziché write questa volta non si è bloccato e non mi ha scritto niente qui perché io non ho fatto in realtà nessuna print in questo programma i dati che ho scritto li ho scritti all'interno di questo file che adesso è comparso numeri elaborati e se lo vado a leggere è fatto così mi sono dimenticato un barra n dopo i trattini e vabbè lo aggiungo che ci posso fare quindi aggiungo 10 trattini seguiti da un barra n e se voglio mantenere questi dati incolonnati dovrò usare devo andarmi a sfogliare come si fa incolonnare dei numeri ma vuol dire devo indicare il numero totale di caratteri e il numero di cifre dopo la virgola ad esempio 8.2 sono 8 caratteri in totale di cui 2 dopo la virgola e quindi vuol dire che sono 5 caratteri per la parte intera il punto e i 2 dopo la virgola se è vero se mi ricordo bene però devo dire mi sono dimenticato che sono i numeri in floating point se no lui converte come vuole ok come sapete non sono un fan dell'allineamento estetico e anche questi risultati qua volendo li potremmo scrivere nello stesso modo ma qui non c'è nulla di particolare semplicemente il modo per costruire le stringhe allora questa somma formato 8.2 floating point 8.2 floating point se lo rieseguo me li stampa anche essi un po' incolonnati quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo non ce ne siamo accorti però in realtà questo fa i numeri elaborati tutte le volte che faccio run viene ricreato da zero io potrei anche adesso scriverci cose dentro schifezze varie ma se faccio run del mio programma questo file viene svuotato cancellato e ricreato ex novo col contenuto dell'output del programma quindi la creazione l'output di un file non è particolarmente complicato l'unica cosa è un po' noiosa perché devo ricordarmi barrenne devo decidere la formattazione eccetera eccetera è una questione puramente di mettere i caratteri giusti nei posti giusti ma per il resto facciamo outfile.write anziché fare print oppure volendo facciamo print col parametro file opzionale solo una nota nel caso in cui il file con cui volete lavorare non è nella cartella corrente ma in un'altra cartella dovete specificare il percorso per arrivare a quel file chi ha un mac il percorso viene specificato separando le varie cartelle col carattere di slash color di divisione chi ha Windows invece deve specificare il percorso usando il carattere di backslash la barra rovesciata però la barra rovesciata viene usata anche come carattere di escape per esempio ricordate che barra n lo scrivo barra rovesciata n quindi se devo inserire il nome di una cartella che contiene delle sbarre in Windows all'interno di una stringa per far comparire la barra all'interno della stringa devo metterla due volte barra barra viene convertita in una singola barra perché altrimenti lui cercherebbe di capire barra h come sequenza di escape barra i come sequenza di escape a volte trova qualcosa a volte non fa nulla perché sono sequenze valide oppure no ma questo speriamo di evitarlo sono complicazioni ok queste sono le basi read read line abbiamo usato read line abbiamo usato write sono le due funzioni di base con cui possiamo lavorare con i file di testo da questo momento in avanti di fatto il lavoro è quasi diciamo così indipendente dal fatto che stiamo lavorando con dei file perché l'elaborazione sarà a livello di string una volta che ho fatto read line ho una stringa in mano e ci faccio tutte le cose che so già fare sulle string la metto in una lista la separo in vari pezzettini eccetera eccetera quindi non c'è nulla di nuovo semplicemente questo dato anziché arrivarmi da una input mi arriva da una read line ad esempio se la nostra filastrocca ci venisse richiesto di stamparla non così com'è ma una parola per riga come potremmo fare? esiste una funzione del file che mi legge una parola sola in modo da poter leggere una parola? no, non esiste esiste la read line che mi legge una riga e poi questa riga me la vado a spezzare in corrispondenza degli spazi abbiamo già fatto esercizi in cui c'è una stringa e devi separare le singole parole con o senza la punteggiatura quindi riusiamo tutte le cose che sappiamo già fare questa volta su dati più complessi quindi a seconda del lavoro che ci devo fare dovrò nel caso di un file in testo libero partiamo da questo caso che è il caso più generale potrei essere interessato a elaborare una parola per volta una linea per volta un carattere per volta e questi vari metodi alla fine mi chiedono di saper giocare gestire le stringhe con i vari metodi per separare le stringhe analizzarle cercare i separatori eccetera eccetera e quindi alla fine una combinazione della funzione read o read line con una strip o l strip o r strip per ripulire eventuali caratteri eccessivi i barrenne finale gli spazi di troppo e magari lo split per separare una riga in corrispondenza degli spazi in corrispondenza delle virgole e cose di questo genere quindi tutti gli esercizi scemi che facevamo sulle stringhe che dicevate ma cosa serve sta roba alla fine ci servono qui saperci gestire una stringa che arriva da un file e separarla secondo le nostre comodità e ne approfitto per introdurre una scorciatoia molto comoda nella lettura del file che ci permette di ottenere con una istruzione sola l'effetto della readline l'oggetto file quindi l'oggetto che è restituito dalla open a sua volta è un contenitore ok questo concetto l'avevamo già visto un contenitore è una stringa che contiene caratteri è una lista che contiene valori anche il file si comporta come contenitore e cosa contiene? righe quindi se è un contenitore noi possiamo usare il range è un contenitore di numeri possiamo usare l'istruzione for per iterare sul contenuto di questo contenitore e questa è la forma più comune che useremo io ho aperto un file input file con questo ciclo for sto implicitamente facendo tante readline assegnando ogni volta a questa variabile line la prossima riga la riga successiva e questo ciclo for si esaurisce automaticamente quando il contenitore è esaurito sia quando sono arrivato alla fine del file quindi tutta la gestione che facevamo prima con la readline controllando il fine file che è giusto sapere giusto conoscere ma nel caso normale in cui devo elaborare e elaborare un file per righe la posso semplicemente condensare usando l'istruzione for e quindi se noi volessimo fare questo esercizio di prima separare il file della fila strocca per parole possiamo provare a ripartire da zero a questo punto che sappiamo più cose fila strocca per parole e per leggere il file possiamo usare il metodo normale allora facciamo cominciamo a darci un po' di metodo il nome del file fatemelo scrivere in una costante così non ce l'abbiamo sparso per il codice o fila strocca uguale open nome file in lettura con l'encoding e chiudi adesso posso analizzare una riga per volta di questo file for for riga in fila strocca allora adesso ciascuna riga è il risultato di una readline sottintesa implicita implicita dentro l'iterazione del ciclo for e mi dà esattamente il stesso risultato che mi darebbe la readline quindi la riga intera compreso il barrenn finale solo che il controllo se il file è finito se lo fa da solo in automatico se non siamo sicuri stampiamo riga e vediamo che mi dà esattamente lo stesso contenuto una riga sì una riga no perché in realtà questa print la stringa riga contiene barrenn e poi la print ne aggiunge un altro barrenn ma questo è solo per essere sicuri che funzioni cosa possiamo fare per risolvere l'esercizio beh prima di tutto possiamo prendere questa riga e dovremo a un certo punto prendere questa riga e dividerla nelle parole che la compongono poi ci chiederemo sulle punteggiatura se vogliamo qui abbiamo la scelta leggo la riga e la elaboro subito oppure mi salvo tutte le righe in una lista e poi ci penso dopo di elaborarle c'è sempre questa scelta quasi sempre in alcuni casi non ho la scelta esempio se mi chiedessero leggi un file e stampamelo in ordine inverso dall'ultima riga verso la prima in questo caso sono obbligato a leggerlo memorizzarmelo tutto e solo dopo che l'ho letto tutto posso cominciare a stamparlo allora lì non ho scelta sono obbligato a conoscere tutto il file prima di poterlo elaborare in questo caso mi dicono di stampare le parole in ordine quindi posso anche decidere magari la prima soluzione che facciamo può essere questa posso avere le parole di questa riga come le posso ottenere ad esempio con la funzione split quindi ho riga punto split riga punto split mi dà che cosa mi dà una lista di string questa parola è una lista di string le quali posso decidere di stamparle una a una quindi for parola in parole print di parola quindi il foro esterno che mi legge le righe per ogni riga ho una stringa questa stringa la separo allo split non ho passato nessun parametro e quindi lei per default va a prendere se se non c'è separatore significa che split divide in corrispondenza di qualunque sequenza di spazi bianchi che è quello che voglio gli spazi separo sugli spazi se volessi separare su un altro carattere dovrei indicarlo ovviamente come argomento della split e poi me la stampa quindi in teoria ho già come output la divisione la filastrocca divisa per parole questo è un metodo un po' grezzo chiaramente che si si fida del fatto che le parole siano divise da spazi perché tutta l'intelligenza tra virgolette di questo metodo sta nella split poi ci accorgiamo che magari qui ho dei caratteri che ne so della virgola un punto magari delle maiuscole magari voglio rimuovere la punteggiatura voglio convertire tutto in minuscolo e vabbè questo lo posso fare una volta che ho questa parola la posso ripulire no? parola pulita non so la posso ottenere prendendo la parola la converto in minuscolo poi la elimino eventuali punteggiature finali quindi r strip tolgo la virgola il punto finale ad esempio e allora stampo la parola pulita no? e quindi abbiamo però questo ovviamente dipende da che cosa ci chiede l'esercizio e di nuovo siamo nel dominio della manipolazione di string il fatto che questo arrivasse da un file ormai ce lo siamo dimenticato quando siamo a questo livello di codice questo era un modo l'altro modo senza svilupparlo tutto ma avremmo potuto dire forriga in file in filastrocca che è il nome del file avremmo potuto dire forriga in file avere un'unica lista con tutte le righe in cui ci metto dentro le stringhe ciò che abbiamo scritto prima mescolava la lettura del file qua con l'elaborazione della riga e quindi ci faccio cose oppure posso dire no io leggo e parcheggio salvo i dati in quella lista righe e poi dopo ci penserò a iterare su quella lista righe divido le parole faccio le stesse operazioni che facevo prima quindi in questo caso se io commentassi questa parte giusto per capire come funziona questo ciclo se io qua stampassi righe mi fa vedere che lui mi crea una lista che contiene tante stringhe ogni stringa corrisponde a una riga comprensiva del suo caro barrenne finale eccetera eccetera fino alla fine del file in mezzo ci sono anche le righe vuote che vediamo riconoscibili dal fatto che hanno solamente il barrenne al loro interno e questa lista di righe la possiamo poi a questo punto elaborare come quante volte vogliamo la scorciatoia delle scorciatoie è questa read lines allora con questa singola istruzione viene letto tutto il file e costruita esattamente una lista di stringhe come quella che ci siamo costruiti noi prima con l'append e quindi se faccio se eseguo questa versione del programma vedete che l'output è esattamente lo stesso quindi quando scelgo decido oppure devo memorizzare l'intero file in una lista in modo più veloce è usare le blinds così evito di farmi il ciclo io il ciclo se lo fa la funzione read lines che è equivalente a questo assolutamente a questo ciclo di append in cui appendo le varie righe ovviamente se devo che ne so memorizzare solamente le righe più lunghe di 10 caratteri allora mi conviene farmi il mio ciclo con la if e va a scegliere quale righe selezionare read lines però è molto comoda perché legge tutto di botto arriva fino alla fine del file il file l'ho finito lo posso chiudere e ho quella lista da questo momento in avanti sto lavorando con una lista di string visto che siamo su questo tema potremmo usare questo trucco anche per la nostra somma dei numeri cioè abbiamo visto che per leggere la fila strocca read lines mi da tutto ma allora anche qua qualcuno mi dice ma senti tutta questa roba qua del ciclo while con i numeri non me lo possiamo fare anche qua con read lines cioè tutta questa cosa qua non riusciamo a sostituirla con num uguale numeri punto read lines ni nel senso che possiamo farlo mi da una lista ma io volevo una lista di float e lui mi da una lista di string quindi non è proprio quello che mi da e non posso neanche dire dice ma come fai non so faccio float di sta roba qua no non funziona ovviamente perché questa è una lista non posso fare il float di una lista devo fare il float di ciascun elementino della lista e questo però lo posso fare dicendo vabbè senti caro facciamo che for i in range di len di num allora num di uguale float di num di cioè iteriamo sta lista di string string e elemento per elemento sostituiamo quell'elemento col numero float il numero reale corrispondente alla stringa che ho letto quindi da lista di string diventa lista di numeri reali oppure al posto di questo possiamo anche usare la sintassi che abbiamo visto a comprehension la mia lista è la float di un valore per valore in num stiamo creando una lista che itera tutti i valori dell'array per ciascuno di questi valori che è una stringa costruiscono una nuova lista che contiene la conversione in float di quella stringa e poi lo chiamo nel nostro modo lo chiamo sempre num quindi in modo più veloce di leggere un file contenente dei numeri alla fine è una cosa di questo genere leggo una lista di string e poi costruisco una lista nuova contenente di numeri applico la funzione float a ciascuno dei numeri della stringa e se sono fortunato o meglio se non ho fatto errori somma numeri dovrebbe darmi lo stesso risultato numeri elaborati che avevamo prima ok? quindi come sempre c'è il modo passo passo di fare le cose con le funzioni di base che ci serve sapere perché magari c'è il caso in cui il modo più veloce non funziona non è quello che fa il caso nostro e poi molto spesso ci sono le scorciatoie come read lines ed eventualmente seguita da una conversione di numeri il modo più veloce per convertire le cose senza farsi un ciclo chiaramente in questo caso è una comprensione perché qua ovviamente lavoriamo a livello di lista con tutti i dati del file quindi usiamo le funzioni che già conosciamo sulle liste ok questi sono altri esempi ma in realtà noi ci siamo già arrivati dicendo che quando leggiamo una riga molto spesso sulla riga che abbiamo appena letto dovremmo applicare R-strip per liberarci del carattere di fine linea questo l'abbiamo già visto la differenza che viene citata qua è posso usare R-strip barra N che elimina solo chirurgicamente il fine linea oppure R-strip senza parametri in questo caso elimina il fine linea e tutti gli eventuali spazi aggiuntivi quindi se una riga finisce con degli spazi e poi ovviamente il fine linea in questo caso elimino anche gli spazi a destra quindi queste sono le varie tre funzioni strip che eliminano caratteri di spaziatura a sinistra a destra oppure sia a sinistra che a destra tra cui ovviamente il carattere di fine linea quindi vengono usati spesso per ripulire le parti di stringa mentre invece per separare la stringa nelle sue componenti e per separare una riga nelle sue componenti facciamo quello che abbiamo appena fatto usiamo la funzione split invece che è un programmino che abbiamo appena scritto che usava la split per dividere una linea in una lista di parole qui ciò che ha fatto la split ma la conoscevamo già perché l'abbiamo già vista quando abbiamo visto le liste avevamo una stringa che conteneva l'intera riga a cui magari avevamo tolto il barrenne e la persona di split mi dà una lista che contiene le singole parole parole le singole sequenze di caratteri separate da spazi che sono parole forse però a volte hanno anche un po' di punteggiatura dietro a volte se avessi due parole separate da un trattino le prende come se fosse una parola unica quindi non è proprio una divisione esatta però dipende dalla definizione che diamo della parola di che cos'è per noi una parola ed eventualmente possiamo a sua volta ripulire le singole parole che abbiamo trovato ad esempio cancellando le punteggiatura con un replace quindi sostituisci ogni punto con una stringa vuota oppure con uno strip che cancella solamente in fondo o all'inizio i caratteri che non vogliamo dipende ovviamente che tipo di pulizia vogliamo fare vabbè qui ci sono questo è il metodo più semplice se vogliamo lavorare per righe ma se volessimo lavorare in altro modo in cui ad esempio devo leggere un carattere per volta o un gruppo di carattere per volta posso usare ad esempio la funzione read la funzione read riceve un parametro che indica quanti caratteri voglio leggere quindi tipicamente viene usata come readd1 quindi mentre readline mi restituisce una stringa che contiene tutta una riga readd1 mi restituisce solamente il prossimo singolo carattere ci serve vabbè se dovessimo fare che ne so il tipico esercizio che conta quante lettere maiuscole ci sono quante vocali e cose di questo genere mi conviene leggere una per una ed elaborarle un carattere alla volta altrimenti vabbè mi leggo la riga e poi itero sulla riga per carità non cambia nulla non cambia molto la cosa curiosa della funzione read che qua non c'è sulle slide è che se io non metto nessun parametro lei legge l'intero file quindi mi istituisce tutto il file come un'unica mega stringa quindi noi abbiamo due modi per leggere il file completo in un'unica istruzione sola read che mi dà una super stringa read lines che mi dà una lista di string la differenza tra il read e il read lines è il fatto che vengano o non vengano separate le righe read lines è una stringa unica read lines invece è di fatto è come se internamente facesse una split sul carattere di fine linea prende questa lunga stringa e la separa sul fine linea non è proprio una split perché nel caso del read lines i fine linea rimangono mentre la split li cancellerebbe è un piccolo dettaglio questo per quanto riguarda il testo libero non è che ci possiamo fare molto nel senso che ci sono dei testi e poi dobbiamo capire come interpretarli questi testi quando parla di parole dobbiamo chiedersi come inizia come finisce una parola qual è la definizione che diamo dell'elemento lessicale che ci interessa isolare e quindi poi giochiamo di find di strip di split eccetera andandoci a ricordare gli esercizi che facciamo sulle stringhe per riuscire a separare le parti che ci serve e poi farci la lavorazione che ci serve viceversa viceversa no facciamo così facciamo un esercizio su questa parte ancora questo lo lasciamo per la settimana prossima perché in mezz'ora è inutile introdurre un tema che che è più ampio allora chiediamoci a modo di esercizio scusate qual è prendiamo il nostro la nostra filastrocca no però prendiamo anziché la filastrocca di di Mary che è molto breve prendiamo ad esempio il testo di Alice c'è la imparazione della meraviglia no poi quando vi faccio il file ve lo metto sul sito metto anche questi file di esempio dimmi scusa no write line non esiste write line c'è write e write lines ok quindi write una stringa che può essere una riga se ci aggiungi il barrenne finale e write lines una lista di stringhe una lista di stringhe ti costruisci prima la lista di stringhe e poi con un'unica istruzione la stampi tutta noi devo dire che ci concentriamo più sulla lettura che sulla scrittura perché la maggior parte degli esercizi che facciamo acquisiscono dati e poi elaborano questi dati riusciamo a stampare la statistica delle lunghezze delle parole di questa novella quante sono le parole di una carattere quante sono le parole di due caratteri quante sono le parole di tre caratteri e così via qual è la parola più lunga e qual è la lunghezza massima della parola più lunga ok quindi facciamo un nuovo programma statistiche alice dove ci chiediamo di determinare la frequenza con cui nel racconto di alice compaiono le parole di diversa lunghezza ad esempio l'output dovrà essere qualcosa del tipo lunghezza 1 ci sono non so 2000 parole di lunghezza 2 ci sono 1300 parole non sto inventando eccetera eccetera lunghezza chi lo sa 13 ci sono due parole e lunghezza superiore a questa non ce n'è nessuna ok alla fine voglio stampare una statistica di questo genere allora come posso ragionare ma io anche qua mi vedo questo programma diviso in due parti vi vedrei una parte in cui mi costruisco magari una lista di tutte le parole che compaiono e una seconda parte in cui mi calcolo questa statistica quindi prima parte leggo il file e costruisco una lista con tutte le parole cioè in questo caso attenzione non è la lista che arriva dal read lines ma è una cosa di questo genere lasciamo perdere il titolo ma Alice was beginning to get e quindi possiamo vediamo la prima parola la prima questa è una stringa il cui primo elemento è la stringa Alice il secondo elemento è la stringa was il terzo elemento è la stringa beginning to eccetera e ovviamente sono una lista molto lunga allora qui è già una prima elaborazione del file perché il file non mi arriva in questo formato in cui ovviamente dovrò anche eliminare tutti i caratteri che non mi servono e quindi ci vorrà un po' per riuscire a costruire questa roba qua non è immediato e poi due dato questo a partire da questa lista diamogli anche un nome chiamo parole a partire da questa lista di parole mi calcolo un'altra lista che conti il numero di lunghezze quindi creo una fatemela chiamare così lista di contatori che si ricorda che memorizza le varie lunghezze quindi chiamiamo lunghezze ad esempio cosa cosa voglio costruire voglio costruire una lista in cui nella prima posizione di indice zero non mi serve perché non c'è nessuna parola lunga zero lettere nella seconda posizione di indice uno c'è duemila nella terza posizione di indice due c'è milia trecento eccetera eccetera nell'ultima nell'ultima posizione di indice tredici ci sarà due ve lo vedete è una lista in cui nella posizione i nella posizione sette c'è il numero che indica quante parole di lunghezza i di lunghezza sette erano presenti nella lista parole precedente una volta che ho questa roba la stampo e ho finito mi sono portato a casa l'esercizio ok a questo punto avendo chiaro che nel punto 1 devo partire dal file e arrivare qui e che nel punto 2 devo partire da qui e arrivare là le due parti le sviluppo in modo completamente separato se voglio in funzioni diverse ma comunque prima faccio una poi l'altra posso partire dalla seconda e poi dalla prima quindi quando prendete un problema complesso cercate sempre di strutturarlo in fasi in ciascuna fase chiedetevi da dove devo partire e dove devo arrivare cosa ho in ingresso cosa devo generare in uscita che poi quell'uscita servirà come ingresso delle fasi successive questa di solito è la parte più complicata fare delle scelte furbe qui se fai delle scelte furbe qui poi è facile purtroppo non c'è una regola per fare scelte furbe per definizione non c'è la formula delle derivate per fare scelte furbe c'è un po' di esperienza che si acquisisce facendo esercizi simili poi adattandoli poi cercando di vedere so già che quella strada lì funziona oppure a volte non si riesce a fare la scelta furba se ne fa una sbagliata quando uno poi rema tanto si accorge che magari sta remando troppo e prova a tornare indietro e prova altre strade su questo è il motivo per cui dedichiamo almeno metà del corso a fare esercizi ok da dove partite dall'1 partiamo dall'1 o dal 2 possiamo partire dall'1 via ma a questo punto sono indipendenti allora dall'1 vuol dire che leggo il file e vabbè questo è facile e costruire una lista con tutte le parole allora questo lo so fare parole uguale lista vuota nessuno mi può dire che è sbagliato poi leggo il file beh leggo il file devo aprirlo quindi file input uguale open di com'è che si chiama file alice.txt in lettura con l'encoding utf8 filing punto close in mezzo leggo il file quindi for riga in file input adesso ho una riga per volta in quella riga devo separare le parole e ripulirle quindi usiamo ispiriamoci quello che abbiamo appena fatto prima parole di quella riga uguale riga punto split magari ci facciamo anche uno strip davanti a questa riga quindi prendo quella riga strip tolgo spazi all'inizio alla fine sinistra destra gli a capo i barrenne tutte queste cose agli estremità sinistra e destra split a questo punto non annulla i bordi ho solamente degli spazi in mezzo e taglio la string in questi spazi e avrò una lista di parole adesso prendo uno a una queste parole e le ripulisco quindi for parola in parole parola pulita uguale parola punto lower mettiamo tutto in minuscolo punto strip togliamo sia da sinistra che da destra qualunque sequenza di punti virgola trattini doppi apici o chissà cosa troveremo in giro punti interrogativi punti esclamativi dovremo andare a vedere nel file che cosa c'è per sapere che cosa c'è io mi farei probabilmente un programmino a parte che va a leggere il file un carattere alla volta e mi stampa tutti i caratteri che non sono alfanumerici o non sono alfavetici semplicemente però supponiamo che siano questi se poi ne rimangono altri possiamo aggiungerci il punto del creativo l'apice scusate l'apice singolo l'apice in retromarcia i due punti eh ce n'è di roba allora l'apice singolo devo metterlo col backslash perché sono dentro una stringa con l'apice singolo due punti l'apice inverso punte virgola chi offre di più ah le parentesi dove siamo aperta parentesi chiusa parentesi vabbè questa può essere la vostra prossima password ce la caviamo con una riga magari non sempre magari non è facile così perché ad esempio l'altana del bianconiglio rabbit trattino hole io vorrei la parola rabbit e la parola hole ma come sto facendo adesso non lo sto separando perché la split mi dà una parola unica rabbit hole la strip mi toglierebbe il trattino se fosse a sinistra o a destra ma non se è in mezzo la parola quindi a sua volta però non fatemi impazzire oggi dovrei prendere le parole pulite che ho ottenute e provare a vedere se c'è dentro un trattino ad esempio e fare uno split a sua volta dove c'è il trattino per trovare le parole composte bisogna ovviamente fare un po' di analisi del testo prima per capire bookshelves però magari ci sono alcune parole che sono da tenere vabbè questa qua è terribile apice trattino trattino yes virgola speriamo che venga fuori decente vediamo cosa esce allora eravamo qua e di questa parola pulita cosa ne facciamo la aggiungiamo a parole vediamo cosa esce da questa parte qua si non è appende scusatemi che fai è troppo lungo aspetta perché non finiva dobbiamo mettere un print vediamo che cosa fa e poi si è bloccato qua dopo quattro cosa sto sbagliando ok sta stampando fino a qui poi si blocca impazzisce a questo punto dopo questa riga quindi questa riga la se l'ha fatta poi parole poi andiamo a vedere cosa sta facendo elisis adventures in wonderland quindi ha creato tante parole vuote ovviamente liste vuote perché c'erano righe vuote poi la prima volta che ho trovato una riga che contenesse delle parole la split ha funzionato bene cretino voi non ditemelo che ho chiamato questa lista uguale a questa cioè questa era la lista dove volevo mettere tutte le parole questa qui è quella con le parole della singola riga solo che poi ho fatto questo in parole in una lista in cui sto aggiungendo la stessa lista da cui le astrago quindi non finisco mai per quello entra in un ciclo infinito quindi questa qua non la chiamiamo parole riga iter sulle parole della riga e aggiungo alle parole tutte quindi commentiamo queste print della vergogna ma non c'è da vergognarsi adesso funziona it's con l'apostrofo boh come dobbiamo trattarlo per ora teniamolo così ci sono ancora tanti forse miglioramenti da fare a questo punto passo due ho questa lista lunga lunghissima e devo prendere queste parole una per una e dire ok allora la prima parola si ammesso di riuscire a trovarla già subito c'è l'apostrofo facciamo finta di niente è lunga quanti caratteri 1,2,3,4,5,6,7 la seconda parola è più lunga 3,6,9,10 forse poi c'è 2 e così via allora io posso avere questo vettore di lunghezze che è pieno di zeri inizialmente e poi quando vedo una parola lunga 5 incremento il valore della posizione 5 quando vedo una parola lunga 8 incremento il valore che c'è nella posizione 8 quindi di base ciò che faccio ciò che ho in mente di fare è andiamo a prendere tutte le parole quelle giuste per ciascuna parola vado a vedere qual è la sua lunghezza è la length di quella parola lì quindi vuol dire che ne ho trovata una di lunghezza 7 allora se prima ne avevo viste 5 finora di lunghezza 7 adesso ne avrò vista una in più quindi posso prendere lunghezze di questa lunghezza parola e lo incremento di 1 dimmi si si può anche fare un passaggio intermedio di crearsi una lista con le lunghezze di tutte le parole ma infatti ci serve comunque sapere perché questo vettore lunghezze non lo posso inizializzare così devo inizializzarlo con tanti zeri per poterli incrementare e quanti zeri devo sapere tanti zeri quanti sono la lunghezza della parola più lunga più 1 perché c'è lo zero che non mi conta e come faccio a sapere qual è la parola più lunga e devo andarmi a vedere tutte le parole fare la lunghezza di ciascuna quindi forse effettivamente può essere comodo il suo suggerimento quindi avrò un vettore che contiene le lunghezze delle parole una lista scusate non un vettore lunghezze parole come lo calcolo vabbè il modo più semplice è dire la lunghezza di una parola per tutte le parole in parole anche qua ho usato una comprehension per non dire append di lunghezza di p la stessa cosa allora in questo caso questo vettore proviamo a stamparlo e poi il resto dopo per ora commentiamolo perché abbiamo un vettore di questo genere una grossa lista con dei numeri che corrispondono alle lunghezze poi ne prendo il massimo max delle lunghezze parole e quindi a questo punto posso costruire il vettore delle lunghezze che sia un vettore a questo punto che contiene se sia il massimo è 13 14 elementi quindi 0 per tanti zeri quant'era la massima lunghezza più 1 ok è chiaro perché è più 1 se la massima lunghezza fosse 5 io avrei bisogno delle posizioni del vettore 1, 2, 3, 4, 5 per poterla incrementare ma la lista comunque anche sempre l'elemento 0 quindi devo creare 6 elementi di cui quello 0 non userò e l'indice 0 non userò ma quelli degli indici da 1, 5 li avrò e allora a questo punto è più semplice perché ho già il vettore delle lunghezze per una singola lunghezza in lunghezza e parole è diverso da quello che hai detto tu lo sto facendo mettendo insieme la mia idea precedente ma poi arrivo a quella che avevi suggerito tu lunghezza lunghezza di Lung uguale lunghezza di Lung più 1 cosa ho fatto qua? togliamo le print gigantesche abbiamo un vettore così una lista così 0 1098 quindi sono 1098 parole di una lettera 4145 parole di due lettere 6808 parole di tre lettere e così via fino a una parola di tante 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 lettere che chi ha voglia conta quanti elementi sono lì dentro come ho fatto a ottenere questo? sono andato a prendere le varie lunghezze e ogni volta che trovavo che ne so una lunghezza 5 andavo a incrementare 0 1 2 3 4 5 questo numero qui per un'altra parola lunghezza 5 incremento quel numero lì questo è un modo che mi permette con una passata sola sul vettore sulla lista delle lunghezze di avere direttamente tutte le frequenze l'altro metodo che suggeriva il vostro compagno invece era girato al contrario dice ok quante parole lunghe 1 ci sono? allora conto quanti elementi pari a 1 ci sono nel vettore sarebbe stato chiamiamolo lunghezze 2 l'avrei fatto così for lunghezza in range da 1 fino alla lunghezza alla massima lunghezza più 1 perché l'ultimo elemento avrei detto che lunghezze 2 append ci aggiungo il conteggio di quanti elementi hanno il valore 1 hanno il valore 2 hanno il valore 3 nel vettore delle lunghezze quindi dovrebbe essere semplicemente un lunghezze parole punto count di Luhn e se non mi sbaglio lunghezze 2 dovrebbe essere uguale eccoli qua nel primo caso parto con tutte le lunghezze uguali a 0 guardo una parola per volta e incremento la posizione giusta nel vettore nel secondo caso parto dal vettore vuoto e mi chiedo quante parole hanno lunghezza 1 e conto quanti 1 ci sono quante parole hanno lunghezza 2 conto quanti 2 ci sono e così via se vogliamo dal punto di vista prestazionale questo è un pochino meno efficiente perché l'elenco dei numeri devo scandirlo tante volte perché ogni volta prima per contargli 1 poi per contargli 2 poi per contargli 3 mentre nel primo caso ciclo una volta sola ma questo per noi è abbastanza un dettaglio va bene grazie di tutto ci vediamo domani vedremo un argomento di teoria vediamo anche quante ce ne sono alla fine 36 quindi la più lunga è 35 35